Salve, questa serie di video sulla correzione colore sostituiscono quelli precedentemente fatti che considero troppo limitati con molti errori e comunque di scarsa qualità. Questo video introduttivo e i seguenti sono molto più completi e per non perdere troppo tempo in spiegazione dei concetti elementari rimanda la serie di video sulle immagini digitali in questo stesso canale. Servono ad avere una base sufficiente per capire concetti e terminologie che da adesso darò pe scontate. La necessità di rinnovare i vecchi video è venuta dopo la lettura di un ottimo libro, anzi di un libro fondamentale, Color Correction Handbook di Alexis Van Yurkman. Un libro chiaro, completo e ricchissimo di informazioni che consiglio a tutti di avere. Peccato che sia solo in inglese. Questi video non sono altro che dei bignamini del libro, quindi se volete veramente capire la materia dovete per forza leggerlo. Come introduzione indichiamo genericamente i compiti e le aree di intervento di un colorista. 1. Correggere errori di esposizione e di colori, cioè la classica color correction. 2. Ricercare, individuare e curare con attenzione gli elementi importanti del filmato. In genere si tratta delle persone, ma non è detto, può essere anche l'ambiente. 3. Bilanciare i vari shot di una scena e le varie scene fra di loro. Si dice shot matching o color correction delle scene. Così non sembreranno girati con attrezzature, illuminazioni e tempi diversi. 4. Creare uno stile di colore come il teal and orange hollywoodiano o il verdasto di matrix eccetera, il cosiddetto color grading. 5. Creare profondità visiva mediante il contrasto di colori e di luci ombre. 6. Rispettare gli standard, i formati e le esigenze dei vari reparti della post-produzione. Si dice rispettare i limiti legali. È un concetto importante questo. Adesso parliamo di condizioni e attrezzature fondamentali per iniziare una color correction professionale, ma che non possono essere quasi mai soddisfatte purtroppo in ambito consumer o casalingo. 1. Usare display di qualità che siano 100% REC 709 e circa 100% DCI P3, lo standard del cinema in pratica. Attualmente non esistono monitor che supportano REC 2020, dato il suo gamut molto grande. Altra caratteristica importante è il supporto in hardware all'hut di calibrazione. 2. Calibrare il display con precisione e regolarmente. 3. Per lavori davvero pro è necessario un ambiente di lavoro attentamente studiato. 4. Pareti grigioneutri, luci indirette con temperatura di colore D65 e CRI sopra il 90%, sistemazione di luce accurata e anche la sistemazione di monitor adeguata, ecc. Tutto questo per evitare anche i minimi problemi di metamerismo, cioè una visione alterata dei colori, che ci porta ad eseguire correzioni sbagliate. Anche i riflessi sul monitor vanno assolutamente evitati. Pensate che per fare color correction per il cinema vengono usate delle vere e proprie mini sale cinematografiche, con tanto di proiettore DCI P3 e schermo di qualità. 4. Usare un hardware esterno dedicato agli scope permette di avere risultati più precisi e soprattutto su uno spettro più ampio, da meno 40 IRE a 110 IRE, che comprendono anche il super bianco, cioè la zona fra 100 e 110 IRE. Invece da meno 40 a 0 IRE è un intervallo che viene usato per segnali e metadati vari e non rappresenta un super nero. questo infatti non indicherebbe altro che il rumore e quindi non ha senso pratico nella correzione colore. 5. Invece con gli scope associati ai programmi di grading, come il Senelera per esempio, si misura l'intervallo in termini percentuali e quindi non si può andare oltre il 100%. 5. Usare una Surface Control, cioè un pannello hardware con rotelle e trackball. In ambito pro è fondamentale perché assicura precisione, comodità e velocità. Inoltre permette di regolare più cose contemporaneamente, non staccando gli occhi dal monitor per controllare il risultato finale. 6. Noi poveri mortali possiamo farne a meno a causa di costi e compatibilità. 7. In ambito casalingo possiamo solo oscurare la stanza ed evitare i riflessi sul monitor e magari calibrarlo. 8. Un monitor professionale ad oggi non costa meno di 2000 euro per non parlare delle macchine da presa. 9. Dobbiamo quindi rassegnarci a fare una Color Correction di nostro gusto e sperare che il risultato che abbiamo faticosamente ottenuto non cambi troppo quando visualizzato su display e ambiti diversi. 10. Tenete sempre presente questo concetto. Il nostro video cambierà quando visualizzato su dispositivi diversi. 11. La maggior uniformità possibile è praticabile solo dai grandi studi. 11. Quello che possiamo fare noi è semplicemente ottenere il risultato più corretto possibile, applicando la tecnica con consapevolezza e cercando di sviluppare un gusto estetico e artistico di buon livello. 12. Andando sul pratico, vi avverto che seguirò un workflow che cerca di mantenere più informazioni possibili durante tutto il processo, anche se comporta tempi più lunghi e hardware più potente e capace. 13. Il primo punto è assicurarsi che il segnale video del file su cui lavorare sia lo stesso impostato sul progetto. Per esempio, se la macchina da presa produce uno UV, allora dobbiamo impostare anche il progetto a UV, anzi meglio UVA, col canale alfa. 14. Se usiamo un segnale RGB di alto livello, ma il software è impostato in UV ad un altro livello, per esempio il 420, otterremo immagini molto scure. 15. Questo è un concetto più importante di quanto possa sembrare. 16. UV è più usato nelle videocamere consumer perché presenta un miglior compromesso peso-qualità. 16. Convertirlo in RGB costa una piccola perdita di informazioni. 17. Meglio sarebbe allora usare RGBA Float, che non fa perdere dettagli di colore, ma è più pesante da gestire. 17. RGBA Floating Point permette anche l'HDR, cioè sorpassare i limiti dell'intervallo 0-1. 18. Oppure si può sempre mantenere UVA per tutto il grading. 18. Anche questa è una buona alternativa, non tanto quanto l'RGBA Float, ma è una buona alternativa. 19. Quanto detto non implica che dobbiamo impostare il render finale come il filmato originale, significa solo che dobbiamo configurare il progetto in modo omogeneo e alla fine scegliere di convertirlo alla bisogna. 19. Un altro punto è usare i DI, cioè gli intermedi digitali tipo ProRes o Avid o FFV1, forniti direttamente dalla videocamera, se questo lo consente, o comunque convertendo subito il file altamente compresso che abbiamo. 20. Ancora, applicare un filtro de-noise al video, che permette di lavorare con più precisione e ottenere i risultati ricercati senza comportamenti inaspettati. 21. Siccome i filtri di de-noise ce ne sono tantissimi, sono sempre molto pesanti per i software di grading, una buona idea è quella di applicare il filtro e poi renderizzare il nostro filmato in un DI su cui lavorare. 22. Ancora, studiare le caratteristiche tecniche del filmato da correggere e di quello che vogliamo ottenere. 23. Aspect ratio, fotogrammi per secondo, bit rate, spazio di colore associato, chroma subsampling, metadati, file ROV o log o flat, oppure, nel 90% dei casi, quali codec compressi sono stati usati. 24. Continuiamo. 25. Studiare l'intero filmato per notare quali inquadrature o scene sono abbastanza omogenee come esposizione e resa dei colori, così da correggerle insieme. 26. Quali spezzoni, invece, devono essere corretti separatamente e poi omogeneizzati fra di loro? 26. Anche all'interno dei singoli spezzoni dobbiamo individuare le caratteristiche visive particolari, sorveesposizioni o sottoesposizioni, riflessi clippati, tonalità della pelle da curare particolarmente o altri particolari importanti da far risaltare o al contrario da nascondere. 27. Insomma, dobbiamo studiare prima il filmato per farci un'idea precisa di cosa c'è da fare e qual è la miglior strada da seguire. 28. Ovviamente, si può sempre cambiare idea in qualunque momento, ma avere il pieno controllo sul lavoro e come affrontarlo è fondamentale. 29. Parliamo adesso di come organizzare al meglio le nostre clip sulla timeline, sfruttando le potenzialità di SNRGG. 31. Si crea un progetto impostando il formato e il numero di tracce desiderate. 32. Si importano le clip nella cartella media della finestra risorse. 33. Se si vuole, possiamo creare gli Smart B. 33. Per strutturare e organizzare tutti i nostri file. 33. In SNRGG si chiamano semplicemente cartelle utente o folders e si raggiunge la relativa voce con un semplice clic destro sulla cartella media. 34. Io per semplicità non farò sottocartelle mantenendo tutto in media. 34. Si aprono i video nella finestra di Uwar con un semplice doppio clic. 35. Esaminiamo a fondo il girato e, se vogliamo, possiamo ricavarci tutte le clip necessarie che verranno salvate nella cartella clip della finestra risorse. 35. In realtà questo passo deriva dal precedente lavoro di montaggio, che in genere precede la color correction, ma che io trascuro in questi 7 tutorial per approfondire il solo grading. 36. Iniziamo la color correction oppure ripetiamo i passi 4 e 5 con tutti gli altri sorgenti. 36. A questo punto abbiamo tutto il materiale a disposizione. 37. Il mio consiglio è di accodare tutti gli shot in un'unica traccia della timeline. 37. Sarà così comodo passare da un video o da una clip all'altra semplicemente spostando il cursore, l'insertion point, e magari memorizzando certe posizioni con delle etichette. 37. L'inconveniente è quando filmati sono tanti e pesanti, provocando un rallentamento del sistema e del workflow. 38. Ma se è possibile preferisco questo metodo rispetto al lavorare su ogni filmato separatamente, come farò purtroppo in questi video per pura praticità. 38. Nel mondo pro è così che lavora un colorista, ricevendo un'unica traccia già montata dal reparto di editing, ed è così che si lavora anche in ambito consumer, prima montando il materiale e poi passando alla color correction. 39. Riprenderò l'argomento nel video 15C sullo shot matching. 39. Bene, fermiamoci qui con la noiosa teoria. Nel prossimo video parleremo del contrasto, che fa parte della color correction primaria. 40. Bene, fermiamoci qui con la noiosa teoria. 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 Grazie a tutti.